Copertina dello sport del 7 marzo, inevitabilmente dedicata al Moto Mondiale e alla tripletta azzurra che ha solcato il semaforo verde del campionato nelle weekend del Qatar. Enea Bastianini, Celestino Vietti e Andrea Migno sono i tre moschettieri delle due ruote azzurre che sono di casa nel Pesarese. Bastianini vince una gara incredibile portando il team Gresini sul gradino più alto del podio al debutto in MotoGP. Non meno clamoroso il successo in Moto2 di Celestino Vietti che bagna il debutto del Muni Team Race di Valentino Rossi tagliando il traguardo davanti a tutti. Una tripletta completata da un altro prodotto del vivaio WR46, quella Andrea Migno dello Sniper's Team che trionfa alla prima gara stagionale di Moto3. Benissimo le moto, meno bene gli sport di squadra della nostra provincia dove nelle weekend ha riso solo l'Ital Service e sono sorrisi larghissimi per la squadra del presidente Lorenzo Pizza che per la prima volta in stagione si prende la vetta del campionato di Serie A. Merito del blitz in Puglia che grazie alla doppietta di Onorio e alla rete di Salas consente ai pesaresi di vincere 3-1 a Manfredonia e scavalcare il Petrarca Padova uscito sconfitto dal campo romano della Todis Lido di Ostia. Laziali che ora arrivano a Pesaro dove domani, martedì 8 marzo, saranno protagonisti del turno infrasettimanale al Palafiera delle ore 20. Ride l'Ital Service ridono meno le altre squadre a cominciare dalla VL che riemerge dalla sosta prolungata rimediando una sconfitta 86-77. Un match in cui la Carpegna prosciutto Pesaro gioca un incoraggiante secondo quarto per poi perdere intensità e partita nel corso del secondo tempo. ci siamo aggrappati a un secondo periodo di qualità balistica in attacco e di buona consistenza difensiva nell'altra metà campo prendendo fiducia da quelle giocate dove purtroppo cosa che purtroppo non siamo stati capaci di replicare il secondo tempo non trovando la stessa ispirazione e le stesse risorse avendo una difesa troppo permissiva nella quale abbiamo sofferto le penetrazioni dei nostri avversari e anche la presenza vicino all'anello sia sul rimbalzo che tagli dei dei loro lunghi e niente quindi anche se abbiamo dato la sensazione di essere lì fino alla fine per riuscire a giocarcela uno due possessi di distanza ai nostri avversari la realtà è che non siamo stati capaci di giocare con quell'intensità che si addisce soprattutto nei finali di gara in partite così delicate in un frangente di stagione così importante quindi speravo riuscissimo a ripartire dopo la pausa con una partita di altro livello di intensità cosa che purtroppo invece non non è accaduta nel calcio la vis passa dalla super vittoria collentella ad un autentico tracollo in casa del gubbio gli umbri vincono 3 a 0 e sorpassano i pesaresi in classifica decisivi 5 minuti nel cuore del primo tempo che costano il 2 a 0 a stretto giro di posta firmato da bulevardi e bonini nella ripresa spalluto serve il tris e la vis non riesce nemmeno ad addolcire la pillola nonostante due cartellini rossi a favore negli ultimi 20 minuti di gara nel calcio di serie d invece arriva un punto incoraggiante per l'alma juventus fano che al mancini fa 2 a 2 nel derby con la san benedettese ospiti che fuggono con fal nel primo tempo nella ripresa casolla e zanni rivaltano il punteggio fissato dal 2 a 2 finale di cardella sconfitta nel volley la megabox valle foglia che a perugia cade 3 a 1 in uno scontro diretto che complica la classifica delle tigri biancoverdi sconfitta a testa alte invece nel regmi per la fiorini pesaro che nel secondo turno interno consecutivo al toti patrignani combatte ma si arrende ai toscani della cavalieri union prato sesto per 18 a 30 oggi avevamo di fronte una squadra forse più preparata di noi con più esperienza il primo tempo è stato equilibrato e combattuto siamo andati in vantaggio dopo però è venuto fuori appunto diciamo un po più l'esperienza anche il peso specifico diciamo dei giocatori di prato e non siamo riusciti a controbattere in maniera efficace è un peccato perché venivamo da due partite consecutive che avevamo vinto e volevamo vincere in casa nuovamente davanti al nostro pubblico è buono che sia stato l'esordio di due ragazzi giovani ma si è anche segnato alla fine è tutta esperienza per i ragazzi perché questo è il livello a cui asperiamo il livello a cui vogliamo arrivare e dobbiamo continuare a lavorare duro in allenamento seguire quello che diciamo noi allenatori grazie a tutti grazie a tutti